Un paziente in gravi condizioni al San Pio di Benevento ha fatto riaprire purtroppo il reparto di terapia intensiva che ormai da una settimana era vuoto. Sono 12 pazienti attualmente presenti all'interno del padiglione Santa Teresa a causa del Covid. Tre in più rispetto a ieri nonostante le quattro persone dimesse in mattinata. Sul fronte delle vaccinazioni è proseguita anche oggi la massiccia campagna per l'immunizzazione di massa contro il coronavirus. Sabato 12 giugno 8 comuni hanno dato disponibilità presso le proprie strutture per vaccinare i cittadini. Open day dunque ad Airola, Calvi, Casalduni, Castelvenere, Cepaloni, Cusano Mutri, Foglianise e San Lorenzo Maggiore. Dove anche senza prenotazione dalle 9 di mattina le persone a partire dai 18 anni di età potranno ricevere il vaccino Johnson & Johnson. Proseguono a tambur battente le operazioni presso la caserma Pepicelli di Benevento e nel lab delle attività produttive dove nell'in un mese sono state vaccinate migliaia di persone. L'ab era un'opportunità per far vedere che quando si sta insieme si riesce a realizzare tutto. La cosa più bella è non solo l'efficienza, aver restituito il sorriso a molti imprenditori, a molti lavoratori, averlo fatto in 8 giorni. Questa partecipazione deve essere la base e il fondamento dei miei quadrienni. Con il reclutamento anche di persone che hanno avuto molto piacere a rimboccarsi le maniche e a dare le prime scosse. Con il reclutamento dei miei quadrienni.